Al via la prima batteria per questi 3.000 metri appunti della categoria ragazzi femminile. Al prossimo passaggio prima assegnazione di punti. 2-4-3-2 punti, 22-1 punto. Prossimo giro, porteggio. 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 312, 2 punti, 113, 1 punto. 312, 2 punti, 137, 1 punto. 312, 2 punti, 137, 1 punto. 9, 2 punti, 8, 3, 8, 1 punto. 312, 2 punti, 147, 1 punto. 312, 2 punti, 137, 2 punti, 113, 1 punto. 312, 2 punti, 147, 1 punto. 108, 3 punti, 2, 4, 3, 2 punti e 20 punti a meno 12 e poi i punti che saranno dati ai giri pari 3 punti a meno 8 punti a meno Orientare i servizi 23 punti a meno 3 punti a meno 7 punti a meno E' l'atleta della Paternese che porta il gruppo a meno 13 e al prossimo giro ci sarà la prima segnazione di ponteggio. 145, 2 punti, 2,99 e un punto. Questa è la segnazione del puntezzo. 145, 2 punti, 2,99 e un punto. 155, 2,99 e un punto. 155, 2,99 e un punto. Vino Setti 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 619 Vino Setti Vino Setti